Eccoci qui amiche e amici di Rossini TV, buona serata a tutti, una nuova puntata di Check Up Obiettivo Salute. Questa sera abbiamo ospite un fisioterapista, un ragazzo che si occupa di patologie della mano. Si tratta di Francesco Maria Guerrini, ci spiegherà tutto quello che concerne la funzionalità di una delle nostre articolazioni più importanti. Noi in realtà facciamo tutto con le mani. Pensate quindi quanto è legato al movimento di questa mano, di questo polso, di queste dita che si aprono e si chiudono e che ci permettono di fare tutto. Francesco Maria Guerrini ci darà davvero modo di comprendere come meglio preservare la funzionalità della mano e soprattutto cosa fare se ci dovessero essere dei problemi. Francesco Maria Guerrini la prima cosa che facciamo è questo tipo di saluto agitando la mano. Francesco perché? Perché parleremo della mano, questa parte terminale del braccio che ci permette di fare tutto e che come giustamente dicevi te prima di cominciare l'intervista che caratteristica ha? Allora intanto la mano è quella che ci distingue dagli animali, per il pollice opponibile è quello che ci distingue dagli animali, ci permette la mobilità fine, riusciamo a fare qualsiasi cosa con le mani. I bambini esplorano con le mani, prima ovviamente esplorano con la bocca per l'allattamento al seno, ma poi con le mani iniziano a scoprire il mondo intorno a loro. Quindi la mano è di un'importanza fondamentale nell'uomo, nell'essere umano. Quindi è chiaramente anche una parte fondamentale che quindi deve funzionare bene. Esatto. E quando non funziona bene cominciano a subentrare dei problemi. Esattamente, sì, poi purtroppo problemi poi di varia natura che possano essere a livello osseo, quindi artrosico, tendineo o nervoso come può essere il tunnel carpale o la sindrome di Decker-Ven che è una sindrome tendinea. Quindi purtroppo essendo molto usata è soggetta a determinate problematiche. E chiaramente nel tempo sono cambiati gli approcci sia per comprendere le patologie sia per guarire. Io ho visto che tu a un certo punto nel darmi un pochino l'argomento del quale avremmo parlato questa sera mi parli di tutori termoplastici. Cosa si tratta esattamente? Cosa sono? Allora, il tutore termoplastico è un tutore fatto con questo materiale che è il termoplastico che diciamo in acqua si ammorbidisce a circa 65 gradi e viene modellato sul paziente. Viene fatto un tutore su misura sulla mano del paziente in base poi alla sua patologia. Quindi se possiamo utilizzarlo per un tunnel carpale quindi bloccare il polso, per una rizzartrosi bloccare il pollice. In base alla patologia del paziente, l'indicazione ortopedica quindi dello specialista creiamo questo tutore su misura per il paziente e a differenza dei tutori che si trovano normalmente nelle farmacie o nelle sanitarie. Questo è specifico per la patologia e su misura del paziente e poi può essere anche adattato successivamente in altre fasi della della riabilitazione poiché questo tutore una volta re immerso in acqua riprende la sua forma originale può essere rimodellato nuovamente. È un po' lo stesso funzionamento dei bite in alcuni casi i bite per i denti che a una certa temperatura poi si modellano sulla dentatura del paziente quindi c'è stato davvero un grande cambiamento nel tempo nell'approccio nel comprendere come meglio curare le patologie della mano. Assolutamente sì poi l'utilizzo dei nuovi macchinari per la terapia fisica come tecar laser che sono sempre in in evoluzione la chirurgia la chirurgia è migliorata tantissimo è sempre meno invasiva i tempi di recupero sono sempre più più ridotti anche perché come dicevamo prima la mano è fondamentale e quindi meno tempo ci vuole per recuperare dopo un intervento o dopo un trauma è più facile il recupero. Qui siamo in una struttura che grazie alla presenza di tanti medici di voi fisioterapisti permette davvero un approccio totale a 360 gradi sulle patologie e quindi si parla anche nel caso della mano di top therapy sì e quindi questo proprio approccio multidisciplinare chiaramente porta dei risultati importanti. Assolutamente sì noi abbiamo la fortuna di collaborare con specialisti di alto livello nel nostro caso nel caso della mano il dottor lucchetti che è una figura di rilevanza internazionale e grazie alla sua esperienza grazie alla disponibilità che abbiamo qui da un punto di vista diagnostico quindi raggi risonanze tacche e alla riabilitazione riusciamo a creare un percorso riabilitativo specifico per per la persona e quindi la riusciamo a seguire a 360 gradi quindi dalla vista specialistica alla diagnostica alla riabilitazione al recupero completo della della mobilità e dell'articolarità. Il concetto di medicina personalizzata è fondamentale nel nuovo approccio medico perché ognuno di noi è diverso dall'altro siamo tutti davvero quasi ormai 8 miliardi di persone al mondo ognuna diversa dall'altro chiaramente ci sono anche delle novità particolarmente importanti in quello che riguarda l'approccio proprio per il recupero da un punto di vista fisioterapico della funzionalità della mano. Sì come dicevo prima i macchinari delle terapie fisiche sono in continua evoluzione e in continua evoluzione lo studio di nuove tecniche di riabilitazione di mobilità dell'articolazione del polso e della mano quindi la medicina in generale è in evoluzione quindi bisogna stare al passo bisogna stargli dietro abbiamo la fortuna ecco di essere specializzati in determinati settori quindi riusciamo a seguire molto più facilmente quel quel settore continuiamo a fare corsi quindi la formazione è fondamentale da questo punto di vista proprio perché riesce a mantenerti sempre al passo con i tempi e soprattutto la cosa importante è riuscire a dare alla persona sempre il massimo di quello che gli si può dare. Francesco tu sei anche ti piace la musica segui la musica esatto quindi il festival di Sanremo l'avrei visto l'anno scorso noi ne approfittiamo per salutare chi ci ha seguito fino a questo punto con una canzone che in realtà è stata la vera vincitrice del festival con le mani con le mani ciao ciao buona serata a tutti ciao a tutti grazie e grazie grazie Francesco per il tuo valore grazie Grazie a tutti.